Questa sera seguiamo per la prima volta in questa stagione, veniamo a curiosare anche nel campionato giovanissimi B, giovanissimi regionali 2003, l'aghezzo di Michele Passalacqua affronta la Fiorentina allenata da Mirko Mazzantini. Chiaramente di solito queste gare contro squadre, comunque il settore giovanili di questo livello, c'è da aspettarsi ovviamente delle goleade, però l'aghezzo insomma cerca comunque di fare bella figura. Fiorentina che continua ad attaccare, finisce giù Angori, esce bene Giannini, pal tiro, la palla passa sul primo palo, la Fiorentina dunque passa in vantaggio dopo che l'aghezzo aveva resistito bene fino a questo momento per quasi 20 minuti. Co Coffi parte in modo ancora bruciante, poi libera Giannini in aria, Giannini, Giannini il 2 a 0, ancora Giannini che si rivela letale, altra conclusione vincente da parte di Giannini, 32esimo, la doppietta di Giannini che sale con questi due gol a 10. Giannini, la sterzata, Giannini con il destro per Barducci, Barducci per Coffi, Coffi col destro alto. E poi invece sorprende il portiere Dauti, sembrava il pallone destinato a sorvolare la porta, invece Coffi riesce a trovare questa conclusione che si rivela beffarda perché il portiere Dauti che è rimasto a terra, batte Angori, c'è lo stacco e c'è ancora il gol, il quarto gol della Fiorentina su questa punizione battuta da sinistra, è arrivata l'incornata vincente da parte di Imparato, anche lui subentrato poco fa, Coffi e manda in porta Imparato, attenzione Imparato, entra in aria, Imparato, Imparato ancora col sinistro, Implacabile, Implacabile, Imparato, è doppietta anche per lui, è 5-0 per la Fiorentina. Malgrado il tentativo di Maggi di rincorrerlo. Inizia il mister Michele passa l'acqua, allora era chiaramente dura contro la Fiorentina, però finché il risultato è stato diciamo solo 0-0, l'Arezzo si era difeso insomma bene, aveva tenuto bene il campo. Sì, abbiamo tenuto bene il campo, la concentrazione è alta, poi ovviamente contro squadre di questo blasone come rallenti o abbassi minimamente la concentrazione ti puniscono subito, poi dopo hanno ovviamente loro preso coraggio, noi ci siamo un po' tra virgolette impauriti e è andata come è andata. Ecco, il campionato dove ci sono queste realtà, la Fiorentina, l'Empoli, tra tutti quelli delle giovani dell'Arezzo, quello che affronti tu è quello piuttosto, diciamo. Sì, sì, perché sono tutte le squadre della Serie A alla Lega Pro regionali e la nostra regione per fortuna ha delle ottime compagini perché oltre la Fiorentina e l'Empoli, se pensiamo che nel nostro girone i primi in classifica sono il Prato, che tra l'altro ha due formazioni, una prima e una, se non ricordo male, quinta o quarta, poi c'è il Livorno, la Carrarese, insomma sono degli ottimi settori giovanili abituati ormai da tempo a fare questo tipo di campionato. Comunque dall'inizio del campionato ci hai raccontato che i progressi ci sono stati. Sì, ci sono stati, ora effettivamente noi abbiamo fatto un torneo la settimana scorsa a Bellare e Giamarina, uno dei più importanti d'Italia per i giovanissimi, dove tra l'altro la Fiorentina è arrivata in semifinale e devo essere sincero, ci sono stati anche da parte della Fiorentina questi miglioramenti, però sì, devo essere onestamente, i ragazzi l'impegno l'hanno messo durante tutto l'anno, sono migliorati sia tecnicamente, siamo davvero partiti con delle basi provinciali, quindi era faticoso fin dall'inizio.